Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti nel centesimo episodio della serie principale di The Sims 4 Ce l'ho fatta, ci sono riuscito, ci è voluto un po' per arrivare a questo traguardo Anche perché le altre serie, le serie precedenti, saranno fermate molto molto vicine all'episodio 100 Ma non c'ero mai arrivato Stavolta è così e in questo centesimo episodio che facciamo ragazzi Andiamo a creare delle nuove stelle come avrete letto dal titolo E in che senso? Beh, ora vi spiego Intanto ci troviamo a casa di Erika e Jacopo E la prima stella che voglio cominciare a far nascere e far spiccare nel mio universo, nel mio gameplay principale È sicuramente Edoardo Edoardo probabilmente avrà tante cose da dire, tante cose da fare Intanto l'ambiente è sporco ma chi se ne importa E comunque ragazzi sì, lui sarà una vera e propria nuova stella E vedrete a cosa mi riferisco Per prima cosa lo mandiamo a crearsi un po' un look diverso Quindi facciamo così, andiamo magari in città, possiamo andare anche a Willow Creek, perché no? E magari andiamo in palestra, così almeno ci occupiamo del suo fisico E poi pian piano lo mandiamo in giro perché lui è cattivo, è cattivissimo E fidatevi, lo diventerà davvero Quindi eccoci in palestra, lui è ancora un po' cicciottello Fra un po' comincia anche la lezione di yoga Ma, eh, non so, magari mi prenoto Eh, potremmo anche farlo, eh Ehm, no Abbiamo perso... Ah, eccolo qua, perfetto Perfetto, 110 simoleon Dai, dai, ci prenotiamo Dobbiamo occuparci della sua forma fisica Anche perché, ragazzi, lui diventerà molto, molto cattivo, come vi ho detto E voglio, con Get Famous 9 stelle, giocare su questo Ovvero far di lui un VIP cattivissimo Che deve essere conosciuto per la sua spietatezza Passatemi il termine Quindi lo dobbiamo far diventare cattivo fin da adesso In modo tale che quando arriverà l'espansione Ci saremo portati avanti Quindi, eccolo qua, che ora comincia la lezione Non puoi partecipare Ah, non l'ho fatto in tempo Vabbè, allora facciamo yoga Ma sì, dai, centratura energetica Magari, ecco, acquisiamo anche l'abilità di benessere Che per una persona cattiva è il minimo Poi, ovviamente, ci esercitiamo nel pugilato Guardatelo un po' quanto è bravo il nostro Edoardo Lui ci darà davvero tantissime soddisfazioni Ci sarà anche una parte legata ai fratelli Insomma, ragazzi, ne vedrete delle belle Davvero delle belle con lui In tutto ciò ho anche disabilitato il passaggio d'età, ragazzi Perché voglio che questi episodi siano più scialli Non voglio vedere troppi compleanni Perché sto aspettando, appunto, nuove stelle Per fare tante belle robe In tutto ciò, lui ha anche acquisito una nuova abilità Nel giorno della nuova abilità Quindi GG Perfetto Eccolo qua, che fa tutti gli esercizi del caso Molto bene, molto bene Si sta riposando, quindi ha finito Perfetto Tradizione completata, va bene Vai pure ad allenarti, caro il mio Edoardo Perché mi devi diventare bello, bello magro E bello, bello in forma Visto la tua vita e quello che succederà Ok, ha raggiunto livello 3 Perfetto, perfetto Benissimo Puoi anche fare allenamento Vai oltre i limiti So che hai dei bisogni Però dovrai aspettare un po' Eh, per forza di cose Ciao, signor Ventolino Come sta, come sta Lui non invecchia mai È una meme Va bene Oh, guarda un po' Tutto trionfio Va bene, va bene Vai pure ad allenarti No, grazie Non la musica Eh, lo so che non volevi allenarti Eh, eh, eh Ma purtroppo io Ti costringo Ti costringo E soprattutto ti mando anche in bagno Se posso Dove ho fatto i bagni? Qua Eh, usa Vediamo un po' se è quello giusto Probabilmente no Perché vi sbaglio sempre Vediamo un po' E infatti Probabilmente posso usare questo Perfetto Lui è molto molto fiducioso In tutto ciò Che è perfetto Oh, livello 4 Vi ricordo anche che tornerà Jasmine Holiday Con una bella promozione Che durerà ben 40 giorni Quindi aspettiamoci Tante belle robe Eh, fai pure una doccia veloce Visto che non ha contato l'interazione Grazie Spero la conti ora Poi vai pure a farti un bel bagno Ok Va bene O meglio Vai pure Grazie mille Formidabile Perfetto, perfetto Eh, ha fatto tutto Sì Dovrebbe usare Ok, grazie Anche questo Dovrebbe socializzare Quindi lo può fare Assolutamente presentazione divertente Con suo zio Va bene Ci presentiamo Suo zio che dovrebbe anche passare l'età molto presto Lì intanto ha distrutto la doccia Ma cose che capitano Vediamo un po', ecco Vediamo un po' di aumentare la socialità Sfoggia l'app ci sta E possiamo anche fare Magari entusiasmati per gli interessi E poi però lo dobbiamo riportare a casa Perché come vedete Purtroppo i bisogni vanno giù Molto molto velocemente Eh, purtroppo è una brutta roba questa Io posso ordinare del cibo In qualche modo Eh, no Assumi un mixologo sì Ma a questo punto preferisco Tornare a casa e mangiare Abbiamo un po' fatto Di palestra Per lui Quindi ci stiamo occupando Della forma fisica Una volta tornati a casa Però Ci occuperemo dei suoi bisogni E poi Riusciremo di casa Perché dobbiamo fare Delle cose interessanti E quindi qua abbiamo La cena a base di tacchino Molto bene Mangia pure Caro il mio Edoardo Dovrebbe anche Andare bene Come cibo sì Possiamo anche socializzare Col pc Ma scusami Ma scusami Hai un padre Puoi fare anche un colpo d'anca Puoi fare anche Entusiasmati per gli interessi Non serve il pc Ecco Parliamo con il nostro padre Magari è meglio Va bene Ecco qua la socialità Vediamo un po' Se parla del tempo nuvoloso Molto bene Lamentati delle bollette In tutto ciò È di nuovo Pasqua Eh Ragazzi Eh Credo proprio di non aver Come dire Eh Non ho salvato Perché c'è di nuovo La Pasqua Qualcosa che abbiamo Già visto Non ci interessa Esatto Voglio terminare Tutto in anticipo È per forza Eh Quello l'abbiamo già visto Quindi intanto Acquisiamo l'abilità di carisma Direi che a questo punto Esatto Va a letto E poi appena recupero Un po' di bisogni Lo mandiamo a giro Beh ragazzi Un po' è dimagrito Ancora un po' di pancetta Devo dire di sì Però neanche tanta In tutto ciò sta bene Però abbiamo le bollette Da pagare E abbiamo tanti simoni Da pagare le bollette E non ce lo possiamo permettere Quindi con la scusa Io direi che possiamo Prendere due piccioni Con una fava E magari Possiamo andare Da qualche parte A rubacchiare qualcosa E siamo Arrivati ragazzi Eh sì Tutto quello che hanno preso I nostri genitori Erika e Jacopo Con tanto sudore A Selva Dorada Lui sta per andare A rubarlo E rivenderlo Tipo questa Che mi piace un sacco Metti nell'inventario Ah ma non li posso rubare Perché in realtà Appartengono già a noi Oh bene Allora facciamo così La metto nell'inventario Questa la vendo Per 10.000 simoleon E loro non lo sapranno mai Quindi ora posso pagare Le bollette E dire ai miei genitori Che so Che magari ho vinto Qualcosa di speciale E allora provo a rubare Qualcos'altro dal museo Senza che nessuno Se ne accorga Cosa possiamo rubare Di bello Vediamo un po' Proviamo ad arraffare Una statua dal nostro museo Vediamo un attimo Che succede In realtà potrei anche Arraffare questo Non lo so Uno me lo fa fare Troviamo questo Perfetto Ok Edoardo ha arraffato Un oggetto Va bene Devo capire un po' Nell'inventario Della sua unità familiare Perfetto Benissimo A questo punto Vedo che c'è anche Del cibo qua Sì avevo messo Un po' di tutto Quindi apriamo Vediamo un po' Se c'è qualcosa da mangiare Perché lui ha fame E in tutto ciò Potete notare Che c'è anche Della cacca colorata Insomma c'è un po' Di tutto nel suo inventario Che fa lui? Sta osservando No vai pure qui Forza Caro il mio Edoardo Forza Uh un esemplare di Anaia Eh già Ma qua non siamo Nello sfascia famiglie Non lo può aprire Va bene E allora a questo punto Possiamo andare Un po' a giro A mangiare qualcosa In strada E continuare a mietere Delle vittime ragazzi Uh ma qua c'è già qualcuno Ciao Ordina del cibo Prendiamo Gamberi al popcorn Già che ci siamo Visto che comunque Ora siamo ricchi Eh perciò ne approfittiamo Infatti lui è energico È tanto energico E voglio capire un po' Come sta messo 1500 simoleon Proviamo già A prendere qualche premio Ragazzi Ah lo voglio Bello bello tosto eh Animale notturno Cacciatore di tempeste Adorano i fenomeni Meteorologici Tempestosi E prosperano Nelle situazioni Terrificanti Ci sta Eh vediamo un po' Per 1500 Pozioni della giovinezza Non mi interessa Servizi gratuiti Carino Eh no Io direi che possiamo Prendere questo Questo mi ispira Va bene E ne prendo anche uno Da 500 Che potrebbe essere anche Eh solutore Di stati Umorali Rimuovo immediatamente No Di stati umorali Negativi Io li voglio Assolutamente Mania Ginnica Perfetto Non cara Ci sta Visto che deve dimagrire Questo me lo prendo Ok Vediamo qua E mangiamo qualcosa Grazie Vediamo un po' Se ora Riusciamo a recuperare Un po' La fame Sì ragazzi Seratina Al parco E a questo punto Ha imparato a preparare Gamberi al popcorn Io direi che lo possiamo Rimandare a casa Lo mandiamo a dormire Andiamo a fare Andiamo a fare un'altra Cappatina in palestra Perché lo voglio Davvero far dimagrire Un bel po' Questo sim E intanto Si sta bevendo Anche il caffè Ne approfitto Così per pagare Le bollette E poi Andiamo in giro A fare qualche vittima Con la malizia Direi che ci sta Uh 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 Ok Ok, ragazzi, eh no, 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 ok, si è trasformato in babbo inferno e sta andando via, ragazzi, ecco cosa vi dicevo, ok, è scoppiato un incendio e lui non sta aiutando suo padre, potrebbe, potrebbe aiutare Jacopo, ma Jacopo non è suo padre, ecco cosa sta diventando il nostro padre. Edoardo, per fortuna lui si salverà, non dovrebbe morire, per fortuna, ok, tanto aspettate, vado a provare a spegnere l'incendio con lei, vediamo un po', l'incendio è troppo forte, ragazzi, lui ha lasciato morire Jacopo, ragazzi, Edoardo ha lasciato morire Jacopo. Ah, wow, wow, ragazzi, ah, ok, riuscite a spegnermi l'incendio, grazie, ok, Edoardo ha scoperto l'incendio, ok, forza, spegnilo. Oh, ma cosa, no, 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 vai qui, vai qui, vai qui, vai qui, vai qui, al fuoco, per favore, salvatelo, ok, salvatelo, ok, perfetto, forza, forza, spegni, che sta succedendo? Al fuoco, ok, implora per Jacopo, no, ma cosa, oddio, Jacopo è stato riportato in vita, le richieste, oh, ok, ragazzi, guardate un po', pensate un po' a quello che sta succedendo, E però io non posso fare nulla per la casa, c'è ancora l'incendio, ma cosa, eh, ok, vai qui, grazie, ok, come stanno? Eh, vabbè, lo mandiamo a scuola intanto, ok, eh già, lui ha cercato di uccidere Jacopo nell'incendio, ragazzi, pensate un po' a cosa sta diventando questo sim. Io però posso chiamare i vigili del fuoco in qualche modo, no, non posso, la casa è distrutta, ragazzi, la casa è completamente distrutta, wow, wow, ragazzi, non so che dirvi, proviamo a spegnerlo, ok, proviamo a spegnerlo, Cercando di non far morire nessuno, eccola, ok, perfetto, ah, ok, ragazzi, è un bel guaio. In tutto ciò, ragazzi, quello che è successo non cambia, lui ha cercato di uccidere Jacopo, o meglio, non l'ha salvato quando lui è quasi morto, e qua non si può fare nulla, perfetto, ah, dobbiamo aspettare che l'incendio passi da solo, credo, vediamo un po', forza Jacopo, vai qui, ce la facciamo. La facciamo in qualche modo, uh, l'incendio non ci abbandonerà per un bel po', dentro per fortuna è finito tutto, ok, eh, devo aspettare che l'incendio passi. Intanto, ragazzi, la nostra casa brucia, brucia e questo incendio non vuole davvero finire, eh, non so che fare perché non posso cambiare le cose, non posso fare in modo che piova. Ecco, se piovesse, in effetti, sarebbe meglio, però purtroppo le previsioni per oggi danno nuvoloso. Io non so adesso, vediamo un po' dal telefono, non posso fare altro, ah, devo un po' capire. No, purtroppo, ragazzi, abbiamo bloccato tutto e dobbiamo un po' capire come va. In tutto ciò non abbiamo interazioni, purtroppo dobbiamo solo aspettare, in tutto ciò l'incendio si sta propagando per tutta la casa. E questa roba non ci voleva, un episodio 100 davvero assurdo, ok, le cose stanno andando male, 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 oddio, no, che sta succedendo, aspettate, implora, ma implorare la morte prima del suo, oh, oh no, 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 vai qua, vai qua, vai qua. E cerca di spegnerlo, non possiamo fare... ragazzi, ah, oh, oddio, oddio, ah, è morto in un incendio, implora, ragazzi, pensavate sul serio che avrei lasciato morire tutti? Quello che avete visto fino adesso, ragazzi, è solo il desiderio del nostro Edoardo, il desiderio di morte, di distruzione. Quanto può diventare cattivo un sim? Quanto può diventare una celebrità cattiva questo sim? Come vi ho detto in questo episodio sarebbero nate nuove stelle, ma sono stelle del male. Ve l'ho detto, il nostro Edoardo ci avrebbe dato tante soddisfazioni e anche i suoi stessi parenti dovranno stare attenti, perché questo ragazzo porterà tantissimo alla rovina di questa famiglia. Ovviamente quello che ho fatto vedere nel video succederà, certo, ora siamo tornati indietro, era tutto un sogno, ma andrò comunque in giro a farlo dimagrire. Andrò in giro a sviluppare la sua malizia, la sua perfidia e sarà ricordato come il sim più cattivo di tutto il mio gameplay. Al momento è ancora tranquillo, sta cominciando a covare dei sentimenti davvero cattivi, che lo porteranno davvero in una brutta strada e lo coinvolgeranno anche, come ho detto prima, con il suo fratello, con i vampiri. Quindi aspettatevi tante cose d'ora in poi sul gameplay, perché le cose cambiano, i nostri sim, se anche un po' tristi, cambieranno di conseguenza e ci porteranno tante, tante cose da farci vedere. In questo episodio 100, ragazzi, le cose cambieranno. Nell'episodio 101, il prossimo, vedrete tutto cambiato. Riconoscerete questi sim? Chi lo sa. Riconoscerete le loro case? Ne dubito. Riconoscerete le loro modifiche? Non credo. Quindi vi do l'appuntamento al prossimo episodio, il 101, dove ci vedrà cambiare tutte le carte in tavola. L'aspetto, quindi, nel prossimo episodio. Per questo ci fermiamo così. Io spero che questo episodio un po' strano vi sia piaciuto, ma volevo dare una chiusura di un cerchio con l'episodio 100, per cominciare alla grande dal prossimo. Detto ciò, io vi do l'appuntamento ai prossimi video. Io spero che questo vi sia piaciuto e se con il video avete un mi piace, iscrivetevi al canale e fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Trovate, come sempre, qui il pulsante per iscrivervi ai altri due video. Io vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti!